Grazie a tutti! Il bordello di Barbaro, voi ci mettete i soldi, noi le troie. Vito, sono Henry. Abbiamo un problema. Che tipo di problema? Eddie è venuto a trovarmi. Falcone sapeva dello scambio e ha mandato Eddie a ritirare la sua parte. Quanto? Sessantamila. Cazzo, così tanto? E ora che facciamo? Non lo so. Non ce ne rimangono abbastanza nemmeno per Bruno. Vediamoci al parco. Non voglio parlarne al telefono. Ok. Arrivo subito. Giù. Dobbiamo andare. Eh? Perché? Andiamo, te lo spiego per strada. In questi giorni arrivi è strano. È come se... Che minchia succede? Fa' il gola! Fa' il gola! Fa' il gola! Merda! Harry! Ma con cosa cazzo lo stanno picchiando? Vito, copri! E io non puoi ti inghezzare! Avanti, marco! E la mura! Ma non sai fare di meglio! Arrenditi! Merda! Ma che minchia fa una cosa del genere, Vito? Queste sono tutte matti! Merda! Che cazzo... Può fare di una cosa del genere? Secondo te? Porca tronca, Harry! Guarda qua, Vito! Riesci a crederci! Pure i soldi sono spagnoli! Giù, andiamo! Arrivano gli spirri! Penseranno loro, Harry! Eh! Quello è il vecchio che ci ha venduto la roba! Wong! Ora sappiamo dove trovarlo! Entriamo là dentro e facciamolo fuori, prima che sparisca quei soldi! Ci servono delle armi vere! Possiamo andare a casa di Harry o cedere se scienze subito! Basta una parola! Mi dispiace, signori! Questo posto è solo per membri! Ecco la tua quota di escrezione! Cristo! Joe, non puoi fare un po' più piano! No! L'hai visto che hanno fatto Harry? Cazzo! E mica hai combinato perché non avevi suonato il gocci già che c'è! Vito, e aiutami a sparassermi di queste bastardi! Beccalo, scienza, dietro il bar! Oh, oh! Bel colpo, Vito! E buonanotte, Charlie Jack! Attento, sparano dall'alto! Dove cazzo va? Oh, 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 no! Abbiamo un po' più piano! Per te è finita! la chave è presa dobbiamo trovare a muon baraccio via Tassoli amassare quello sull'esca la sua alla finestra lascia qualche piccolo abbastanza anche per me dite al borso capo di percorso va bene ce ne sono altre tre ma da dove cazzo arrivano tutti? sarà un tunnel per la cina dai vedo fatti vedere ancora due abbiamo a ferire oh oh bel colpo vito sei morto coglione musa giallo che cosa volete voi? che minchia credi che voglia? dobbiamo sapere perché hai fatto ammazzare il nostro amico e vogliamo i soldi che gli hai preso non avevo scelta il vostro amico era un informatore ma che minchia te vai dicendo? il nostro contatto nell'ufficio federale antidroga mi ha detto che Henry Tomasino aveva dato loro informazioni sul nostro scambio stai dicendo a stronzare? frena dici che Henry era una talpa si ma ora non più che stronzata non ha senso dove sono i nostri soldi? non sono più qui cosa? e dove minchia sono allora? non posso dirvelo se non ce lo dici subito sparco quel tuo cervello di merda gialla sulle pareti di tutta la stanza se ve lo dicessi sarei comunque morto va bene la scelta è tua sei impazzito e che dovevo fare? lo lasciava andare forse poteva dirci altro fa un culo non avrebbe parlato sono decoccio ste bastardi beviamoci dalle palle prima che arrivino gli sperri questo affare del cazzo è stato un disastro dirlo a me Henry è morto non abbiamo i soldi di Bruno abbiamo ucciso metà cinese e se pensano che ci abbia mandato Carlo è guerra siamo fattuti già e se Carlo scopre che l'abbiamo feccato in questo casino e se Henry era davvero una talpa? assolutamente no non dirlo nemmeno senti prima procuriamoci soldi per Bruno così sistemiamo almeno una cosa ma per oggi ho finito ho bisogno di bere vediamo domattina e sistemiamo sto schifo bene ok ci vediamo eh Vito sta attento Vito sei pronto? ti sembro pronto? mi hai appena svegliato beh allora alzati buonasera abbiamo fatto le ore piccole eh? sì non riuscivo nemmeno a dormire ma la bottiglia di scotch funziona sempre vai a Greenfield bene ora puoi dirmi di che si tratta? dobbiamo andare in questo posto sarà una passeggiata e chi? e ti ha detto che è un favore a una famiglia di un'altra città affare in sospeso mi ha dato questo busto con tutte le istruzioni dicendo che dobbiamo fare un lavoro pulito e farlo oggi ma per che cazzo non se ne occupa l'altra famiglia? e ti ha detto che stavano cercando questo qui da un po' e l'hanno trovato hanno paura che se non riescono a farlo fuori subito questo sparisce del mondo ecco la foto bene che ha fatto? pare che abbia tradito la sua famiglia vendendola ai federali beh se l'hai proprio cercata aspetta un attimo allora era sotto protezione giusto? e se lo fossi ancora? e anche in quel caso per questo lavoro ci daranno un paio di testoni quindi ne vale la vera se lo dici tu ehi ci serve un sacco di grana adesso giusto? quindi dopo questo lavoro ci dividiamo e ne cerchiamo dall'altro bene qui c'è scritto che gli dobbiamo dare un messaggio prima di farlo ecco qui ok capito ehi se vedi Eddie dopo non dire niente di chi era noi non siamo mai stati là l'ultimo cinese che abbiamo visto consegniamo in voltiere primavera capito? chi ha? preso per un deficiente? a gioria non ha ancora messo il verdetto per quell'amico giusto per essere sicuro che non fai cazzate che non lo so è tu è tu Thomas Angelo? Eh, sì? Don Salieri, ti manda i suoi saluti. Ehi. Vito! Ehi, grazie di essere passato, ci speravo proprio. Perché? Frank sta organizzando una riunione con gli altri boss e ha preso quasi tutti i miei ragazzi come guardia del corpo. Così non c'è nessuno per un lavoro che mi serve. Derek, i ragazzi non vogliono lavorare. Cosa? Perché? Per quel cazzone che hai licenziato. Ehi. Merda. Beh, l'altra cosa dovrà aspettare. Puoi aiutarci prima con questa, Vito? Che succede? Questo minghione non è venuto a lavorare per tutta la settimana. Faceva finta di essere malato. Una cazzata. E allora l'ho licenziato. Comunque alcuni suoi amici si sono incazzati e vogliono fare sciopero. Devo solo presentarmi con qualcuno che sembra fare sul serio. Te do un migliaio di dollari. Ci stai? Va bene. Non posso rifiutare quei soldi. Perfetto. Devi solo stare alle mie spalle e assumere l'aria da duro. Giusto, Steve? Vedremo. Beh, allora, qual è il problema, ragazzi? Vogliamo che tu ridi a Johnny il suo vecchio lavoro. Sono io a decidere chi viene assunto e chi viene licenziato qui. E lui è licenziato. Tutto quello che noi ti chiediamo è di riassumerlo. Ha una famiglia e gli serve un lavoro. Ho preso la mia decisione. Vedete? Ve l'avevo detto! Stai calmo, vieni. Niente violenza. Ci facciamo tutti i giorni un culo così per questo coglione. E se ci capita qualcosa, ci incula come ha fatto con il povero Johnny. Abbassa subito la voce, giovanotto. Non voglio sentire un'altra parola su quel fannullone del cazzo. Fannullone del cazzo? Gli è caduta addosso una cassa mentre lavorava. Per te! Si è rotto tutte e due le mani, cazzo. Beh, quello è un suo problema, non mio. Ora ve suggerisco di tornare al lavoro o se ne romperanno altre. Tu brutto bastardo! Ragazzi, state cominciando a farmi incazzare. Non c'è bisogno della violenza. Davvero? Mettilo giù. Non vogliamo problemi. A me non sembra proprio. In questo momento mi pare che abbiate grossi problemi, o no? Ora, se non volete tutti cominciare a cercarvi un altro posto, tornate subito a lavorare! Vedi, Vito, sanno solo lamentarsi. Vito? Sei Vito Scaletta, vero? Accidenti, tuo padre parlava. parlava sempre di te. Gli assomigli proprio. Ma perché lavori per questo bastardo? Dopo quello che ha fatto al tuo vecchio? Chiudi subito quella cazzo di bocca, stronzo. Non ascoltarlo, Vito, dice stronzate. Dai, andiamo. Stronzate, eh? Quel bastardo ha ucciso tuo padre, Vito! Cosa? Stanno solo cercando da farti incazzare. Derek. Ehi, non puntarmi addosso il fucile! Perché non gli chiedi com'è... Ha negato tuo padre? L'abbiamo visto andare via con Steve. Poi Steve è tornato da solo. Tutto bagnato. Non puntarmi addosso il fucile! Che diavolo è successo a mio padre, Derek? Sei fuori da testa per caso? De che ti fede? De me o di questi falliti ora disoccupati? Ci conosciamo da molto tempo, Vito. Pensa a tutto... Sì, perché eri tutto bagnato? Ti sei buttato in acqua per salvarlo? Perché non voleva saperne di stare sotto. Vieni la bocca chiusa! Vito, hai fatto un giuramento. Io ce l'ho. La lealtà alla famiglia è più grande di quella alle nostre stesse famiglie. Dillo a mia madre. Devo ammazzarla. No, non qui. Sistemeremo le cose con lui più tardi. Mi deludi davvero, Vito? Sono serio. Farò molto di più che deluderti, Derek. Tuo padre... Non ora. Devo prendere quel bastardo prima che scappi. Ora diamo una lezione a quel bastardo. Vimmi, dove l'hai presa quella? Non farà male. Vimmi, dove l'hai presa. Vimmi, dove l'hai presa. Vimmi, dove l'hai presa. La cosa la possiamo ancora risolvere. Sai che succederà quando la gente saprà quello che è matto? Lo sai, stai facendo anche un grosso errore per la tua vita! Ma che cazzo hai nella testa dito? E se deve poter fare una cosa del genere, guardatene! Sei fonduta! E mancavo dentro! Tranquilo, tra poco di libertà! Quando avevo venuto con te, sarei in cibo venito con te! Lo sai, stai facendo il più grosso errore della tua vita! Morerai qui, Vito! Proprio come a tuo padre! Ho passato la vita a cercare di non commettere gli stessi errori di mio padre. E improvvisamente scopro che sto seguendo le sue urme. Finalmente ho scoperto la verità. E la morte di Derek mi ha aiutato a risolvere un altro problema. Forse ho trovato i soldi del fondo pensionistico di Derek. Gio non era a casa. All'inizio ho pensato che fosse in ritardo, così sono andato a prendere da mangiare. Due ore dopo, Gio non era ancora tornato. Stava diventando buio e mi stavo preoccupando. Dovevo cercarlo. Vito, meno male che sei qui. Hai... hai saputo? No, che cosa? Harry è morto. Cosa? I cinesi del cazzo l'hanno fatto a pezzi in pieno giorno. Perché? Quindi tu non ne sai niente del niente, eh? Beh, Harry voleva farmi partecipare a un affare, ma ho rifiutato. Che è successo? Harry è... cioè, era stupido. Chattava droga con le tonghe. Sapeva che era pietato e l'hanno scoperto. Carlo ha chiuso un occhio e gli ha detto che avrebbe dimenticato. Ma i cinesi hanno fatto il doppio gioco. E hanno fatto a pezzi Harry in mezzo al parco. Cazzo. Non si possono fare affari con i gialli. Ma c'è di peggio. Harry non lavorava da solo. Ieri qualcuno ha massacrato un sacco di cinesi giù a Chinatown. Ora pensano che siamo stati noi oppure Vinci. Hanno già cominciato a minacciare Vinci. Se sta cosa non si sistema in fretta, siamo tutti nella merda. Sicuro che non ne sai proprio nulla? Nulla, e ti lo giuro. Davvero. E Joe, allora? È sempre stato con me in questi ultimi giorni. Eh, buon per voi. In questo momento Carlo sta fuori città, ma quando torna ci sarà da ridere. Infatti. Spero che non mi stai pigliando per il culo. Giuseppe, sto cercando Joe Barbari. Stato qui oggi? Ciao Vito. Sì, Joe è passato oggi. Bene. È tutto il giorno che lo cerco. Ha detto dove andava? Beh, no. Secondo me non lo sapeva neanche lui. Come mai? Eh, stava cercando un lavoro. Ma mentre ne parlavamo sono venuti dei tizi e l'hanno portato via. Cosa? Chi? Era agente di Vinci. Sì. Hanno detto che il signor Vinci voleva parlargli. Dove possono essere andati? Non lo so. Forse al loro bar. Il Mona Lisa. C'è qualcosa che non va? Non ne sono sicuro. Diciamo solo che non siamo in ottimi rapporti con il signor Vinci da qualche tempo. Sì, Joe non sembrava troppo felice. Un brutto presentimento. Meglio che vada a scoprire che sta succedendo. Spero che non sia nulla di grave. Buona fortuna Vito. Fermo e forse non ti ucciderò. E là ragazzi. Ecco qua, un tipo con le palle. Anche per me è un piacere. Non muovere un muscolo. Dai, ascolta l'amichevole barista e non fare cazzate Vito. Ora per prima cosa devo chiederti di buttare le armi a terra. E non fare scherzi. Questo è il barista da grilletto più facile di tutta la città, eh? Non sono armato. Allora Vito, che ci fai qua, eh? Non ti stavamo aspettando. Sto cercando Joe Barbaro. Ho sentito che i vostri l'hanno preso. Ma forse. Che volete io e Joe? Non vi abbiamo fatto niente. Il signor Vinci non la pensa così. Voleva solamente spiegargli alcune cose. Ecco che sta facendo Joe. E dato che sei passato di qui, perché non tenisci a loro, eh? E se non volessi? Allora discutere con queste armi. Ma non ti preoccupare. Sarà un bello spettacolo. Allora di Vito, che si è possibile. Non ti preoccupare. Bittà è politico. Allora, cosa come durante l'attropa di Vito e lehi boki... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.